Ciao, se sei qui forse sai che su questo canale YouTube cerco di aiutare startup, imprenditori, aspiranti tali, a crescere la loro attività. E una domanda che sorge molto spesso per persone come me è, ma tu, chi sei? Tu, che fai? Cosa ti qualifica a fare quello che stai facendo su questo canale YouTube? Perché dovrei ascoltarti? Sicuramente non credo che gli unici a poter dare consigli utili siano le persone migliori in un determinato ambito, anzi molto spesso ci sono problemi legati a quello, alla loro capacità di condividere e di insegnare, ma penso che sia comunque importante darvi un punto di vista su quella che è la mia vita professionale al di fuori di YouTube, se non altro anche perché può essere un qualcosa di interessante per persone che stanno cercando di magari sviluppare la loro carriera, stanno cercando di capire cosa vogliono fare, se una vita all'interno del mondo delle startup può fare a caso loro. Quindi io spero che questo video vi sia utile e ci tengo anche a farvi sapere che questo video nasce da una partnership con Fiscozen, il servizio online che vi aiuta con la gestione della partita IVA e che vi offre anche una consulenza gratuita con il link in descrizione, ma ve ne parlerò dopo. Parte tutto in un caldo luglio del 2016 con la mia maturità, durante l'esame di maturità infatti cerco come tanti di combattere la voglia di non studiare e continuo a non farlo. Un modo per procrastinare per me era anche quello di riflettere su cosa avrei fatto della mia vita finiti questi cinque anni di liceo. Ero abbastanza convinto che non sarei andato all'università, vedesi la voglia di non studiare citata sopra, e quindi decido di procrastinare andando a vedere un po' quali siano le opportunità lavorative per una persona come me. Una persona che probabilmente avrebbe finito il liceo con una media poco più che sufficiente, 68 neanche mi hanno fatto la cortesia di darmi il 69, che aveva lavorato come clerk, come assistente in un negozietto di Roma vicino San Pietro, che bazzicchiava, parricchiava un po' l'inglese, che conosceva un po' la tecnologia, computer, e che era interessato al mondo del marketing, aveva cominciato a guardare i video di Gary V, lo ammetto, anch'io ho fatto questo step nel mio percorso. Quindi avevo cominciato a studiare un po' il mondo dei social media, della comunicazione, cosa voleva dire. Penso un punto di ripartenza per tantissimi che al giorno d'oggi si affacciano al marketing, anche per questo un mercato super pieno, super competitivo da tanti punti di vista. Competitivo a ribasso però purtroppo. Comunque sia, scopro l'esistenza di questo Erasmus Tranship, un programma europeo, come si può intuire dal nome, che fondamentalmente è un Erasmus, ma invece di andare a studiare in un altro paese andate a lavorare. Quindi un Erasmus un po' più sfigato. La cosa carina è che comunque venite pagati, potete essere pagati o solamente dall'Unione Europea o da entrambi, Unione Europea e azienda, lì dipende chiaramente da quello che è il budget dell'azienda dove andrete a lavorare. Ed è una vera e propria internship, però fondamentalmente vi richiede di andare a lavorare in un altro paese. Ho pensato che questo potesse essere una buona opportunità per me, quindi ho iniziato un po' a cercare. Come forse ho già detto in altri video, ho fatto application per un lavoro di cui non avevo assolutamente, per cui non era assolutamente qualificato, quindi addirittura si parlava di vendita di prodotti per brand online tramite marketplace verticali, quindi era una specie di agenzia, un servizio produttizzato. Non avevo idea di che cosa stessi parlando. Prima del colloquio mi ero fatto un po' di ricerche, ero riuscito forse a far vedere comunque agli intervistatori che ero interessato e sembrava una possibilità abbastanza aperta. Sarei dovuto andare in Estonia, che sicuramente è un paese interessante per una persona come me, che si interessa al mondo delle start-up, molto vivo da vari punti di vista, e questo sembrava essere un po' il percorso, tant'è vero che poi, ricordo ancora durante l'orale della maturità, i professori facevano la tipica domanda, no? Cosa vorrei fare dopo? E io dissi che appunto avevo questo lavoro potenziale in Estonia per fare marketing fondamentalmente. Poi cosa succede? Un'altra opportunità di lavoro appare all'interno di questo sito e si tratta di Uniplasis. Uniplasis era una scale-up portoghese, all'epoca aveva da poco chiuso il loro proprio Siri 6, da mi sembra 20 milioni, che per me, insomma, leggendo gli articoli del Sole 24 Ore sembrava un numero incredibile, affascinante, che mi aveva un po' attratto, e quindi decido di provare. Questo era un lavoro che richiedeva fondamentalmente di essere iscritti all'università perché il loro obiettivo era trovare degli studenti che aiutassero altre persone che cercavano un appartamento, una stanza, in una città, a prenotarla tramite Uniplasis. Quindi il lavoro fondamentalmente era tu cerchi sui gruppi Facebook che cerca casa, gli chiedi cosa gli serve, dove vogliono stare, quali sono i loro requisiti minimi, e su Uniplasis aiuti a trovare la stanza adatta per loro. Quindi anche lì comincia a fare questo colloquio, pensavo di non andare all'università, però parlando con Sania le faccio capire in realtà che già sono all'università, non so se questa cosa poi l'è stata chiarissima. Tra l'altro, se non sbaglio, questo colloquio avvenne prima di sapere i risultati della maturità, quindi all'epoca non ero neanche diplomato, anche lì vabbè, diciamo un'omissione a fin di bene, e appunto durante questo colloquio il mio obiettivo era quello di dimostrare che nonostante non avessi esperienza lavorativa, ci capissi qualcosa di quello di cui stavo parlando, ma sticavo un po' la materia, e questo è il consiglio che do anche alla maggior parte di voi, cioè se non avete esperienza lavorativa, preparatevi molto bene delle idee concrete prima dei colloqui in modo da far vedere che comunque c'è della sostanza, no? Alla fine il dubbio più grande per la persona che vede davanti è io come faccio a sapere che questa persona sa fare quello che mi serve e dimostrarglielo nella maniera più pratica possibile è la cosa migliore. E parlando proprio di pratica, l'altro step di questo colloquio era quello di, poi una volta finita la conversazione, dimostrare che eravate in grado di poter portare del valore all'azienda, quindi mi hanno chiesto di andare a cercare potenziali landlord, potenziali proprietari di casa da aggiungere alla piattaforma, e così ho fatto. Se non sbaglio ho anche portato una serie di vendite all'azienda prima di essere assunto, non ricordo quanto era il numero, comunque una decina, una ventina di persone che avevano bisogno di una stanza, sono andato lì, le ho aiutate, le ho fatte trovare l'accomodazione su Unipleces, e quindi grazie a questa dimostrazione molto tangibile per loro è stato facile prendere una decisione anche perché si trattava di un lavoro su commissione, quindi onestamente quasi chiunque può ambire ad un lavoro di questo tipo, quindi penso sia un ottimo primo lavoro per iniziare. La barriera all'ingresso è solo la vostra abilità, la vostra voglia, il vostro tempo per lavorare. Se fate un buon lavoro ricevete delle commissioni e venite pagati anche discretamente in base a quanto siete rapidi nello svolgere queste operazioni. Una volta avuta la scelta, quindi ho ottenuto l'offerta da Unipleces, ho deciso di continuare per quel percorso, perché nel frattempo mi ero interessato un po' al mondo di scienze politiche, che poi l'università che ho cominciato a fare, e ho detto ok, magari questo lavoro mi permette di rimanere a Roma, quindi magari anche contenere i costi, testare l'università, vedere se effettivamente è un ambiente che mi può piacere o meno, e cominciare a muovere i primi passi nel mondo lavorativo. Quindi accantonata all'Estonia comincio a lavorare con Unipleces, comincio a fare le prime vendite, quando ho tempo, quando riesco, e comincio anche a studiare all'università. Qui si apre un altro ramo della mia storia legato a YouTube, è il motivo per cui sono qui oggi. Infatti per continuare a esplorare un po' il mondo del marketing, anche per portare un po' di esempi di come sono riuscito a creare dei contenuti che le persone apprezzassero, far vedere delle aziende potenziali, guarda che comunque so fare qualcosa, ho creato una pagina Facebook. In questa pagina Facebook volevo creare dei video e poi testare la sponsorizzazione di Facebook. All'epoca ti davano tipo 30 euro di buono se aprivi una pagina per sponsorizzare, insomma, i tuoi contenuti. Quindi ho aperto la pagina, ho fatto un video, mi sembra, sulle elezioni in Irlanda, in Irlanda del Nord, che all'epoca, insomma, era uno degli argomenti più caldi su fronte delle relazioni internazionali, e mi sembra fosse una breve infografica di qualche minuto. E ho cominciato a sponsorizzarlo, a vedere come reagivano le persone. Ho cominciato anche a mandarlo ad alcune pagine che si occupavano di geopolitica e relazioni internazionali, permettendogli di usare il video sulla loro pagina citandomi, cosa che ha funzionato, quindi qualcuno ha condiviso quei video. Ho cominciato a fare anche altri video e il mio grandissimo piano di marketing è stato quale? Quello di utilizzare la mia attività all'interno di un gruppo, la gasserite di Shai, mi sembra si chiamasse ancora all'epoca, e condividere questi miei contenuti. Quindi cosa facevo? Io ero un lurker già di quel gruppo, comunque ogni tanto commentavo e quando vedevo magari le persone che spostavano la discussione su un tema, che era legato a un video che io avevo fatto e caricato su Facebook, linkavo quel video all'interno del gruppo Facebook. Quindi ho cominciato ad avere i primi forse 500 follower, principalmente tramite queste due attività, andare da pagina Facebook e chiedergli di ripostare video citandomi e commentando essendo attivo all'interno del gruppo di Shai di Breaking Italy. Questo ha permesso anche a Shai, penso, di scoprire alcuni dei miei video e quindi durante una live e forse anche un'altra volta, insomma, durante un video o comunque sempre durante una live, lui menzionò il mio canale, disse ah, effettivamente fai bei video, sei bravo. Non vorrei, insomma, ricordarmi male, sono passati tanti anni, però ricordo l'emozione di sentirlo menzionare il mio canale mentre ero in live il venerdì. E quindi questa pagina Facebook cominciò a crescere. In parallelo avevo cominciato anche a fare un canale YouTube, quindi quando Shai menzionò il canale fu il canale YouTube a esplodere, a crescere, a raggiungere i primi, mi sembra, mille iscritti. E a questo punto mi era abbastanza casato, no? Quindi continuavo a fare video, cominciavo a farne sempre di più e è stata un'ottima esperienza, un'ottima palestra, perché da una parte avevo imparato a fare un minimo di Facebook Ads, anche quello aveva portato alcuni risultati, mi sono dimenticato di citarlo prima. Dall'altra avevo capito alcuni piccoli trucchetti, alcuni piccoli hack per crescere un canale dove si portano dei contenuti. Insomma, era abbastanza carico, ho continuato con attività di questo tipo, ho continuato a fare video dove parlavo di geopolitica. Alcuni andavano meglio, alcuni andavano peggio. Il video in assoluto che ha completamente cambiato un po' la dinamica del canale è stata l'intervista a Dario Fabri, che adesso è famosissimo, e l'avevo conosciuto collaborando con un'altra pagina Facebook, sempre che avevo contattato manualmente. Quindi vedete, veramente la possibilità di creare delle relazioni semplicemente mandando messaggi, cercando di essere utile, per me è sempre stata una cosa fondamentale che consiglio a tutti voi di fare. ero anche arrivato a parlare con l'IMES, tant'è vero che da qualche parte nell'edere dell'internet c'è un'intervista con Giorgio Locatelli, che era l'editore di l'IMES Online, e appunto portai questa intervista a Dario Fabri, che per lungo tempo fu il risultato numero uno quando qualcuno cercava geopolitica su YouTube in Italia, e questo, insomma, mi ha portato un buon numero di utenti al canale. In tutto questo io continuavo a lavorare con UniPlaces e scoprì l'esistenza di questa figura dell'ambassador manager che venne creata a Roma per gestire tutti i vari ambassador. Io mi presentai con tutta una serie di idee su attività, cose che volevamo fare, in quel periodo ero comunque un fancazzista, quindi fui poco propositivo per un paio di mesi, però quando questo ambassador manager decise di smettere perché aveva finito l'università, cominciava a lavorare, voleva anche lui andare all'estero, mi candidai per questa posizione insieme a vari altri candidati e siccome ero già all'interno dell'azienda, siccome comunque avevo costruito un po' di fiducia con Sani, aveva visto che era una persona propositiva, allora riuscii ad ottenere il lavoro. Nel frattempo ho lavorato anche a vari eventi, infatti volevo cambiarmi prima di fare questo video, però mi sono reso conto che avevo la prima maglietta forse di eventi a cui ho partecipato, VR Days, questo sarà stato appunto 2016 forse, o 2017, sono stato due anni, quindi forse 2017-2018, ho fatto anche altri eventi, Go Youth legato a UniPlaces, e lì ho cercato sempre di mettermi come assistente degli speaker. Assistente speaker forse è la posizione migliore in cui essere per questi eventi perché vi permette di conoscere persone interessantissime, quindi ho conosciuto l'inventore dell'hashtag, ho conosciuto l'head of marketing di Instagram in Europa, sono state veramente bellissime esperienze, quindi è un'altra cosa che è facilissimo da fare, perché gli eventi sono sempre in cerca di volontari, e se vi presentate lì, siete proattivi, date una mano, anche prima dell'evento, cercate di aiutare quelli che organizzano, lo fate in maniera intelligente senza rompergli le balle, vi assicuro che riuscirete a cavare qualcosa di interessante da questo buco, quindi un altro piccolo hack per chi è interessato. Quindi faccio questi eventi, per una combinazione astrale riesco a fare un evento a Madrid, uno ad Amsterdam, senza pagare praticamente nulla, con Scalo a Lisbona, che mi permette di andare a conoscere anche di persona il team di UniPlaces, e che mi aiuta in questo processo di interview per il lavoro di ambassador manager finale, e con l'ambassador manager arriva il mio primo lavoro a paga fissa, tra virgolette, a parte l'assistente nel negozietto vicino San Pietro, che praticamente non conta, però ecco, il primo lavoro a paga fissa, più chiaramente le commissioni, sempre legate alla performance, alle vendite, e comincio un po' a approfondire un po' di temi, quindi come trovo le persone giuste, come le motivo, come le metto nella posizione migliore per vendere in questo caso, o per creare contenuti, ho fatto lavoro pessimo chiaramente guardando indietro, ma insomma questo penso che sia vero per qualunque cosa guardiamo nel nostro passato, almeno soprattutto quando siamo agli inizi, però ecco, comincio a interessarmi a questo mondo, e capisco un po' più di cose. Vi prometto che adesso accelero, ho speso più tempo su questa parte iniziale, perché credo sia quella più utile per la maggior parte delle persone. Comunque nel frattempo arriva il 2018, e dopo un po' di tempo che ho fatto da ambassador manager, mi arriva una proposta da parte di Sania, delle persone a Uniplaces, mi dicono ehi ma perché non vieni qui sei mesi, ci piace come comunque stai lavorando a Roma, stai espandendo il tipo di attività che fanno i ragazzi, abbiamo aperto questo ruolo, fai la parte di interview, e vieni qui sei mesi, poi torni a Roma e continui a fare quello che fai, però a livello internazionale, non solo a Roma, per me era una figata, questo era anche proprio l'obiettivo che avevo in mente, l'università continuava, ma insomma non era un grande studente, andavo agli esami senza studiare, quelli che riuscivo a passare così, per caso li passavo, gli altri invece magari li rimandavo a settembre, la tipica frase, poi lo do a settembre, ormai c'erano quattro esami da dare a settembre, già al secondo anno. e quindi arrivo a questa posizione in UniPlaces, l'aprile e il marzo 2018, scopro di aver ottenuto il lavoro, tra l'altro colloqui pessimi, l'HR dopo il primo colloquio mi ha messo all'ultimo posto, tra i potenziali candidati, perché l'ho detto, ah ma non lo so se voglio andare a Lisbona, sei mesi è un periodo abbastanza lungo, cinque anni dopo sono qui, c'ho il mutuo, vabbè lasciamo perdere, comunque saluto a Marisa, che aveva ragione, perché effettivamente ho fatto schifo durante quel colloquio, ma poi parlando con altri membri del team di marketing, anche incontrando la SIEMO, insomma non tanto per un colloquio, ma più per attività che facevano a Roma, sono riuscito a convincere in qualche modo, e quindi marzo 2018 ottengo il lavoro, aprile 2018 inizio, mi ricordo il giorno dopo Pasquetta, mi trasferisco a Lisbona, e comincio a lavorare come content marketing, come content marketer lì, in realtà avrei dovuto fare anche la parte di ads, che mi casava molto, però poi il team si è ristrutturato, mentre mi stavo trasferendo qui, e lì conosco anche un sacco di persone, che insomma sono state importanti, per la mia crescita personale, professionale, quindi devo dire sono stati bei mesi, il modo in cui funzionava l'azienda non mi convinceva, avevo un po' di dubbi sul business model, sul modo in cui operavamo, alcune priorità, e quindi poi in realtà già ad agosto, quando Sania, che era diventata insomma la mia, non era più la mia capa diretta, però chiaramente era la mia superiore, lì lascia l'azienda, mi offre la possibilità di andare a fare quello che volevo fare di più, cioè non solo lavorare sulla parte di content marketing, ma espandermi nel mondo growth, che ha più a che fare anche con la parte di prodotto, quindi stavo cominciando a imparare che cos'era Growth, i soliti libri contenuti di Sean Ellis, che erano insomma le poche risorse che c'erano fuori all'epoca, nel 2018 sul tema, Growth Tribe, insomma cose di questo tipo, e quindi entro in un'azienda, che è in fase di presid, veramente passo da una startup comunque in serie 6, con un centinaio di persone, un ufficio bellissimo in centro Lisbona, a una startup che è veramente agli inizi, non ha ancora un'idea chiara di quello che vuole fare, e arrivo lì, il mio obiettivo è quello di fargli raggiungere un certo numero di revenue, per sbloccare i prossimi fondi, lì mi rendo conto che il business model che avevano in mente, non funziona, non è scalabile, l'hanno già fatto in tanti, è molto difficile, e quindi il primo giorno mi invento questo prodotto alternativo, ne parlo col CTO, lui si casa abbastanza, e comincio a lavorarci praticamente da solo, facendo un po' di brainstorming, ok, come deve sembrare, come facciamo a livello tecnico, quali sono value proposition, chi sono i clienti, e poco a poco questa idea di prodotto diventa il business principale dell'azienda, la lanciamo, va bene, abbandoniamo l'idea originale, e continuiamo con questo prodotto che avevo ideato io, questa è stata per me l'esperienza di apprendimento più grande forse in assoluto, perché veramente mi sono ritrovato da sapere quasi zero, a dover essere un po' un product manager, anche se non sono mai stato chiamato così, di un prodotto da zero, il product manager è un po' un mini CEO di una linea di prodotto dell'azienda, e quindi ho imparato tantissimo, ho imparato cosa vuol dire UX design, cosa vuol dire anche semplicemente pensare un prodotto dall'inizio alla fine, che problema stiamo risolvendo, qual è il pricing, qual è il modello di distribuzione, chiaramente non in maniera così strutturata all'epoca, però ecco, è stata un'esperienza bellissima da quel punto di vista, una cosa che ci tengo a precisare è che passai da uno stipendio, che per un intern o comunque per un entry level in Portogallo era decente, 1000 euro al mese all'epoca, era ancora possibile vivere a Lisbona con quello stipendio lì, a prenderne, ricordo il primo mese 450, poi siccome feci bene, fui promosso, mi sembra cominciare a prendere insomma intorno al minimo sindacale, che era forse 700 euro, 800 euro all'epoca, e poi dopo continuando insomma tramite promozioni in questa azienda, a prendere lo stipendio che magari prendeva uno sviluppatore giù, quindi 1.300, 1.400, sono numeri piccoli, però a Portogallo gli stipendi sono molto bassi, e niente, quindi poi dopo due anni l'azienda in realtà, ci sono tutta una serie di pivot, anche un po' di problemi con i founder che cambiavano idea su quello che volevano fare, i loro obiettivi, poi a inizio 2020 col covid, mentre insomma stavano cercando di fare il prossimo fundraise, con fondi istituzionali che erano molto scettici, perché insomma a febbraio, marzo 2020 c'era veramente tanta paura sui mercati, l'azienda chiude, e lì decido di cominciare a fare consulenze full time, o comunque freelance full time, e si apre la prima grandissima domanda, cioè che faccio, apro l'equivalente della partita IVA portoghese, apro un'azienda, posso continuare a farlo con prestazione occasionale, parlo con tantissimi commercialisti, cerco di strigarmi un po' in questa ragnatela, che già è una ragnatela in Italia, poi figuriamoci farlo in portoghese, e c'è un prodotto che mi avrebbe aiutato tantissimo, purtroppo non era e non è disponibile in portogallo, ma questo prodotto è Fiscozen. Ancora oggi la gestione della parte burocratica per me rimane una sfida, la mia commercialista gestisce tutto tramite email, Whatsapp, non c'è un portale ai clienti, non c'è un qualcosa dove tutto è in un posto solo, che posso controllare in modo facile per condividere le fatture, quindi veramente è un incubo, ogni volta, ogni mese cerco di rinviare il più possibile questa parte. E ricordo ancora la prima volta che mi arrivò il documento, che mi diceva quanto dovevo pagare di IVA per il trimestre, io ho veramente avuto un mini attacco di panico, non mi era mai capitato prima, perché lavoravo principalmente con aziende estere, quindi non c'è l'IVA intracomunitaria, vabbè sono dettagli che sono solo da nerd, e veramente è stato un colpo al cuore, avessi usato un prodotto tipo Fiscozen, avrei saputo in anticipo quanti soldi mettere da parte per pagare le mie tasse, per esempio. Ecco, Fiscozen è il prodotto che vi aiuta ad evitare questi microinfarti o questi problemi, infatti avete una dashboard dove è tutto chiaro, tutto visibile a colpo d'occhio, sapete quante tasse dovete pagare magari per il prossimo anno, per l'anno corrente, c'è un modo per gestire tutta la parte delle fatture, quindi per emettere fatture e anche per gestire i pagamenti, quindi per voi che siete in Italia vi consiglio veramente di utilizzare il link in descrizione per prenotare una consulenza gratuita, perché loro hanno tantissimi commercialisti chiaramente verificati all'interno del loro sistema, voi potete fare una consulenza gratuita con uno di loro, quindi penso sia veramente un prodotto incredibile, sempre a vostra disposizione, potete usare chat, mail, telefono, quello che preferite, e se poi decidete di aprire una partita IVA, sempre grazie al link in descrizione, avete anche uno sconto di 50 euro sul primo anno di abbonamento, quindi io spero veramente che questo servizio possa esservi utile. Una cosa che non ho detto neanche a loro è che io parlai con Fiscozen prima che l'azienda dove stavo chiudesse, perché già pensavo di cominciare a fare un po' di consulenze, e gli chiesi una mano per capire, ok, magari posso tornare in Italia, usare il bonus rientro dei cervelli, non ricordo esattamente tutti i dettagli della discussione, fu molti anni fa, quello che ricordo è che loro mi dissero chiaramente, guarda, noi non siamo il miglior servizio per te, e mi hanno dato altri consigli su come muovermi, su con chi andare a parlare, e in quella chiamata di sì, grazie mille, è utilissimo il fatto che voi non cerchiate di vendermi un prodotto forzandomi, che è un prodotto che non mi serve, mi dà la sicurezza per consigliarvi poi a persone in futuro che avranno bisogno di un prodotto come il vostro, quindi chi l'avrebbe detto che poi cinque anni dopo mi sarei ritrovato su YouTube, anzi no, forse un po' meno di cinque anni, comunque quattro anni dopo mi sarei ritrovato su YouTube a parlarvi di Fiscozen, sono veramente contento di questa partnership, siccome non lo posso usare io come cliente finale, ho chiesto a varie persone che conosco che sono Fiscozen, sono tutte contente del servizio, veramente andatelo a provare, link in descrizione. E tornando alla nostra storia di imprenditoria, di partite IVA, di azienda, io decido di aprire un'azienda sulla base del consiglio della commercialista, tra quelli che ho consultato, che mi è sembrata più concreta, e apro questa mini agenzia, assumo una ragazza che lavorava con me dall'azienda precedente, che era stata lasciata anche un po' a piedi per questioni burocratiche, vabbè, insomma, lasciamo perdere, e arriva poi anche una terza persona, comincio a offrire servizi, c'è un cliente principale, che gestisco io, che è bella e buona, se avete visto il Twitch Tank con Mr. Rip, il secondo episodio, sapete di cosa si tratta, il nome in italiano non è molto, non ispira molta fiducia, però è un prodotto in Germania, quindi non vi preoccupate, Davam era un servizio di Cloud Kitchen, fondamentalmente, per aziende, quindi immaginate Uber Eats, però per aziende, un business model, secondo me, molto molto interessante, un'azienda, insomma, per cui faccio veramente il tifo, perché credo che sia un qualcosa che tantissime aziende dovrebbero usare, per tanti motivi di benefit, di sostenibilità, anche di benessere dei propri dipendenti, quindi veramente un prodotto figo, e niente, nel frattempo continuavo a fare consulenze a varie aziende, scale up, la più importante forse è OutSystems, che era uno dei primi unicorni portoghesi, all'epoca l'ultima valutazione mi sembra fosse di 10 miliardi di dollari, li aiuto con product led growth, cosa di cui in realtà conoscevo pochissimo, però sempre lì all'epoca ero positivo, quindi quando mi chiesero una mano su quel tema, ho detto sì, 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 assolutamente, vi do una mano, io sono un grandissimo esperto, in realtà, insomma, conoscevo le basi, però poi, insomma, ci siamo piaciuti, e ho cominciato a dargli una mano, e vedrete che poi OutSystems ritornerà all'interno di questa storia. Passato un anno e mezzo, forse, di questa esperienza, un po' di più, cosa succede? Conosco delle persone, in un evento per giovani interessati al mondo delle startup, e ci viene in mente un progetto per aiutare anziani in case di riposo. Siamo in pieno Covid, o comunque leggermente dopo la prima fase di Covid, le case di riposo sono chiuse ormai da tantissimi mesi, e hanno smesso di entrare anche personal trainer, quelli che aiutavano a fare esercizio, quelli che stimolavano il movimento fisico di tantissimi anziani all'interno di queste case di riposo, e questo è un problema enorme. Io ho fatto anche volontariato all'interno di case di riposo quando ero a liceo, è stata una delle esperienze di formazione più importanti per me come persona. Sono stato vicino a tutti i miei nonni, diciamo nel corso della loro vita, da quando ero più giovane a quando sono invecchiato, ho visto qual è l'impatto della riduzione dell'attività fisica, o comunque anzi, il vantaggio di fare attività fisica con l'avanzamento dell'età è una componente fondamentale per diminuire l'invecchiamento, per mantenere la capacità cognitive. E quindi, niente, cominciamo da questa idea a dire, ma sai che c'è, magari riusciamo a creare una soluzione online, digitale, che faccia sì che possano continuare ad allenarsi. All'epoca andavano fortissimi i vari peloton e le varie attività di esercizi online, e quindi cominciamo a farlo però specifico per le case di riposo. in Portogallo, questo è un tema importante. Quindi novembre nasce l'idea, l'idea va bene, cominciamo ad avere i primi clienti, i primi interessi, e se non sbaglio a forse marzo, non lo so, no, forse gennaio, comunque sì, novembre nasce l'idea, già a gennaio, degli investitori collegati all'acceleratore in cui eravamo ci dicono, sai che c'è, noi vi diamo i fondi se cominciate e andate full time su questa attività. Quindi facciamo il salto, andiamo full time, tutti e tre i co-founder, e io lascio l'attività di Bellebona, per quanto riguarda l'attività di agenzia, qualche cliente rimane quello che può essere gestito magari dai miei collaboratori, però insomma anche lì chiaramente diminuisce tanto il volume delle attività che facciamo, mi concentro principalmente su Active, che era questo progetto che abbiamo lanciato. Un anno super frustrante, nonostante amassi la mission, la vision di quello che stiamo facendo, nonostante credo che il prodotto abbia potenziale e che sia utile per il mondo, sento di non riuscire ad avere l'impatto che voglio avere, so le cose, ma non riesco a far scalare questa idea, ci sono ancora problemi con il product market fit, e sono frustrato. La paga per i founder è bassa, quindi durante la parte di consulenze ero arrivato in un momento in cui guadagnavo dei soldi che insomma mi rendevano tranquillo, riuscivo a pagare altri due salari di altre due persone, avere qualcosa extra per me, più il mio salario normale, quindi sono passato da una situazione abbastanza tranquilla a di nuovo prendere il minimo sindacale e insomma dopo un po' capisco, io non sono la persona migliore per questo ruolo, non sono, il mio portoghese non è abbastanza buono per vendere a un tipo di persona, a un tipo di cliente che non ha fiducia nello straniero, perché il proprietario di case di riposo non è diciamo, non è esattamente l'emblema del progressismo o comunque sono persone anziane, quindi 3.000 problemi. la costruzione del team di sales è stata una delle cose più complicate che io abbia mai fatto, veramente assunzioni difficilissime, poi sales è un ruolo dove o paghi bene o difficilmente le persone brave vengono, quindi è stato un periodo complicato e decido di lasciare dopo un po' meno di un anno, quindi lascio in buona fede, come dire, senza particolari conflitti, conversazione aperta, diretta con i co-founder, non lascio, non ho alcune equity in quell'azienda, sono uscito prima del cliff delle stock option e niente, quindi poi decido di andare a lavorare a Factory 14, Factory 14 era un aggregatore di e-commerce, avevano lanciato da poco, mi sembra a maggio, avevano già raccolto 200 milioni per acquisire brand che vendevano su Amazon, brand che vendevano sul loro sito, lì chiaramente, anche lì, si era all'hype dell'e-commerce e entro lì gestisco tutta la parte di SEO e conversion rate optimization, quindi ero il manager della parte organica di marketing, l'altra parte chiaramente era pet advertising, era branding, era life cycle marketing, io gestivo la parte di organic growth, SEO, conversion rate optimization, una sfida fighissima, perché ero lì e stavo costruendo i sistemi per gestire il marketing di 15 aziende diverse, la SEO di 15 aziende diverse, stavo assumendo un primo, diciamo, un team, chiaramente era un'azienda nata da pochissimo che stava affrontando una sfida enorme perché devi creare da zero un team che gestisca milioni e milioni di vendite e quindi, insomma, comincio, cominciamo a avere i primi risultati, specie lato ottimizzazione delle conversioni, chiaramente lato SEO invece ci vuole un po' più di tempo, però a marzo mi sembra l'azienda viene venduta quindi per un motivo o per un altro i fondatori decidono di fare una exit verso un player più grande nel mercato che è Razor Group io decido di non continuare dentro Razor Group per due motivi o tre motivi principali il primo è che leggendo un po' di recensioni online sull'azienda mi ero reso conto che forse il work-life balance che era richiesto da un'azienda di quel tipo non era quello che cercavo io quindi ho letto di molte persone su Glastor che dicevano di lavorare full time anche il weekend non era un momento per me e il secondo motivo per cui non sono andato da Razor Group era legato all'acquisto di casa perché fondamentalmente volevo rimanere a Lisbona e c'era la sensazione che loro volessero o portare tutti a Madrid che era la sede principale di Factory 14 o addirittura portare tutti a Berlino e quindi ho detto no il terzo motivo è che un mio ex contatto di OutSystems la persona con cui collaboravo più strettamente mi aveva scritto qualche mese prima dicendomi ehi sto lavorando a questa azienda sono stato assunto da questa azienda software.io è molto interessante mi ha fatto vedere la lista degli investitori io sono rimasto veramente a bocca aperta e mi stavo mangiando le mani dicevo cavolo mi piacerebbe veramente lavorare in una realtà di questo tipo però sto cominciando a costruire il team qui ho preso un impegno e quindi non è il momento giusto nel momento in cui ho saputo che Factory 14 sarebbe stata venduta ho detto sa che c'è scrivo a Mario e insomma lo sento ci parliamo e a marzo mi sembra 2022 comincio ufficialmente la mia avventura in software quindi anche lì continuo la mia avventura da impiegato in software sono una delle due persone in growth quindi Mario si occupava della parte di retention e activation degli utenti io facevo tutta la parte di acquisizione quindi pacchetto dopo pacchetto facciamo Google Ads proviamo che funziona e poi lo facciamo scalare a qualcun altro affiliate marketing proviamo che funziona e poi lo continuiamo lo lasciamo continuare a crescere SEO e continuiamo a lavorarci lavoriamoci per un sacco di tempo perché SEO invece richiede un sacco di di attenzione e quindi anche lì una sfida super interessante in cui veramente con un team di due persone di marketing siamo riusciti a passare a fare un ad recorring revenue molto interessante una crescita molto interessante specie per un momento down del mercato sopra i benchmark che insomma che qualcuno si aspetterebbe da un'azienda di questo tipo che aveva praticamente zero marketing e niente è l'azienda in cui lavoro anche attualmente continuo a lavorare sempre in ambito in ambito growth cercando di di dare gas a questa a questa crescita è un'azienda che si occupa dello sviluppo di app in no code quindi se volete costruire un'applicazione web ma non sapete programmare oppure sapete programmare ma avete poco tempo o volete farlo rapidamente volete essere in grado di iterare in maniera veloce potete usare software che vogliate costruire un portale clienti dei tool interni per la vostra azienda per gestire non lo so le vacanze per gestire le assunzioni per fare checklist per i vostri sales agent insomma si può fare veramente di tutto è una piattaforma super orizzontale è una sfida veramente molto molto interessante e durante il periodo software riprende anche piede il mio canale youtube in tutti questi anni di lavoro non ero riuscito a stare dietro al canale di geopolitica non me la sentivo di continuare a fare video su quel tema perché fondamentalmente era un tema su cui dovevo studiare tanto non mi informavo più giornalmente sui temi di geopolitica non non me la sentivo di fare video su temi così importanti se non avevo un contatto diretto con questi temi giornaliero o comunque settimanale e quindi dico sai che c'è basta continuo a farmi mille paranoia su questa cosa ribrendizziamo il canale arriva ad avere il mio nome e comincio a parlare di quello che faccio tutti i giorni quindi start up marketing growth parliamo di questo parliamo di cose che posso condividere con le persone che mi seguono certo magari l'80% del pubblico attuale non sarà interessato spero che il restante 20% rimanga e che continui a guardare e che il nuovo pubblico arrivi da un punto di vista marketing è sbagliatissimo ribrendizzare il canale in questo modo però io volevo semplicemente cominciare a parlare mettermi davanti alla camera e condividere e sentire feedback di altre persone e quindi ho detto sai che c'è cominciamo da qui c'è già una base comincio la comunicazione con il pubblico poi chi c'è c'è chi non c'è non c'è non sarà la cosa ottimale però è quello che voglio fare al momento e quindi siamo arrivati anche qui lato youtube adesso insomma spero che poi in futuro magari potrò fare un video per raccontarvi quello che è successo dopo questo video a settembre spero penso di lanciare rapido l'acceleratore open source andate a vedere il sito rapido punto f y i quindi f y i for your information per chi non conoscesse questa abbreviazione in inglese le metteremo tantissime risorse gratuite per founder per persone che lavorano dentro lo startup metteremo anche un sacco di offerte super interessanti per le startup che vengono accettate nel programma e almeno al momento ma penso anche per il futuro visibile è tutto gratuito quindi non preoccupatevi non vi chiederò di pagare per avere accesso a queste risorse io come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questo video che doveva essere molto più corto ma penso di star qui e parlare da veramente 40 minuti quindi spero che vi sia stato utile che vi abbia dato ispirazione se avete dubbi domande come al solito scriveteli nei commenti io sono qui anche per rispondere a questo vi ricordo ancora un'ultima volta il link in descrizione di Fiscozen se volete una consulenza gratuita e 50 euro sconto sul piano annuale noi come al solito ci vediamo al prossimo video alla prossima ciao 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 ciao